È una settimana importante perché ci sono nove punti in palio, veniamo dalla sconfitta e vogliamo ricominciare una serie positiva, quindi sicuramente è una settimana molto importante. E più specificamente su Brescia? Perché noi bisogna prendere una per volta, quindi abbiamo il Brescia che è un avversario difficile, però non andiamo a giocare la partita, la squadra sta bene, a parte qualche piccolo acciacco di qualcuno, però sicuramente avrò possibilità di far giocare una squadra competitiva.